E' un'altra comprensione. Ho ricevuto degli insegnamenti molto particolari. Grazie a tutti per aver guardato questo video. La fotocamera con la trafatti, la sto parlando del monitor sulla finestra. Poi vi faccio vedere anche come lo sistema programma si può fare. Qui sopra c'è diversi quadri. Giusto per esorcizzare un po' quello che si sta succedendo del lockdown. Probabilmente anche quello che si sa mai. E' niente, adesso che non fanno 53 giorni alla vigilia di Natale, sapete che ho spartito qui davanti, non so, sono un po' quest'ora, con chi mi ha insegnato, ma più o meno non era caso. Sì, quindi penso di far solo due o tre barri. Beh, legittimamente sotto qua, vedete che è molto lì, perché c'è la pedaliera, non si vede, anche perché la fotocamera è appunto solo sui tastieri. Se riesco canto, se riesco. Mettere da 100 milioni alla prossima. giusto per esorcizzare un po' di fattere. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. , 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 ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,, ,,, ,,, ,,, ,, ,, ,, ,,, 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 ,, ,,, ,,, ,, ,,, ,,, ,, ,,, ,, ,, ,, ,, ,,, ,,, ,, ,, ,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, 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 ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,, ,,,, ,,, ,,,, ,,,, ,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,, ,,,, ,,,, ,,, ,,,, ,,,, ,,, ,,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,,,,,,,, Grazie a tutti. 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 Vi saluto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vi saluto. Vi saluto e vi auguro ogni bene. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.